Buongiorno, oggi per la rubrica gusto siamo al ristorante La Postumia a Cremona. Eccoci i compagnieri del nostro sommelier Ernesto e del nostro enologo Milco Rizzi Red Wine. Ora sentiamo cosa hanno da dirci. Innanzitutto buongiorno, oggi andremo a presentare l'Allosso Reserva, vino de Tempranillo, vino spagnolo. Ora guarderemo il colore, colore intenso, rubino, odore di prugne, oh my god. Ora andremo a vedere al talato, al gusto, sulla nuva. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh yes, 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 yes. Oh my god.